Irene Grandi e i Pastis sul palco della Sala Vanni con Lungo Viaggio. Noi siamo andati dalla parte del pubblico. Chi è Irene Grandi? È una bella donna fiorentina che canta benissimo. Una grandissima rucchettara, mi piace. È una grande cantante. Molto solare, che mi comunica sempre, veramente, gioia di vivere. Ecco, stasera davvero l'ho apprezzata ancora di più delle altre volte del Sanremo e di tutte le altre manifestazioni. Brava! Lei, la cantante, sta correndo gradi mischi, probabilmente, ma non l'ha accettata. Volare, oh oh. I Pastis? I Pastis sono un duo che produce audio e video. Io ero curiosissima di sentirli e stasera è stata, la mia curiosità è stata esaudita. Molto carino, davvero. Noi. Prima di partire per un lungo viaggio, porta con te la voglia di adattarti. E' da tardi, prima di pretendere. Cosa mi porto per un lungo viaggio? Mi porto un po' di malinconia e l'amore della mia vita. Il coraggio. La voglia di stare sola e di vedere le cose solo con i miei occhi. Tanti ricordi. Dietro, una maglietta e poi è una bella carta di credito. Una valigia piena. Una voglia di cambiare. Un'emozione grande, foto meravigliosa e voglia di viaggiare. Anche intorno a casa, non importa andare tanto contando. Il viaggio parte da qui. Questo è un pezzo di questa Italia. Un'emozione grande, foto meravigliosa e voglia di vivere.